era il compleanno dell'infanta compiva giusto dodici anni e il sole splendeva luminoso sui giardini del palazzo benché fosse una principessa vera un'infanta di spagna ella non aveva che un solo compleanno all'anno proprio come i bambini della povera gente perciò era naturalmente della massima importanza per tutto il paese che in quella occasione l'infanta avesse una giornata bellissima gli alti tulipani striati si ersero dritti sui loro steli simili a lunghe file di soldati che lanciarono al di là del prato uno sguardo di sfida alle rose e dissero siamo belli come voi adesso le farfalle vermiglie volteggiarono intorno le ali spruzzate di polvere d'oro e visitarono ciascun fiore a turno le lucertoline sgusciarono fuori dalle fessure dei muri e andarono a crogiolarsi nel riverbero incandescente del sole e le melagrane schiattarono e si spaccarono per il calore rivelando il loro rosso cuore sanguinante persino i palli di limoni gialli che pendevano a profusione dalla spalliera esausta dal loro peso e lungo le arcate in penombra pareva avessero acquistato un tono più caldo sotto la meravigliosa luce solare e le magnolie aprirono i loro grandi boccioli globiformi di avorio pieghettato e riempirono l'aria del loro dolce inebriante profumo la piccola principessa intanto aveva incominciato a passeggiare su e giù per la terrazza con le sue compagne si era messa a giocare a mosca cieca attorno ai vaci di pietra e all'antiche statue ricoperte di muschio nei giorni normali aveva il permesso di giocare soltanto coi bambini del suo stesso rango perciò era costretta a giocare sola ma il suo compleanno era un'eccezione e il re aveva dato ordine che potesse invitare tutti i giovani amici che le piacevano a giocare e a divertirsi con lei c'era una grazia solenne in quei bambini spagnoli mentre si volavano via leggeri nel gioco i maschietti nei loro grandi cappelli piumati e nelle brevi cappe volteggianti mentre le bambine tenevano sollevati gli strascichi delle loro lunghe vesti di broccato e si schermavano gli occhi dai raggi del sole con immensi ventagli nero argentei ma l'infanta era la più graziosa di tutti secondo la foggia alquanto ingombrante dell'epoca indossavo un abito di raso grigio la gonna e le ampie maniche a sbuffo erano ornate di un pesante ricamo in argento mentre il corsaletto rigido era tutto tempestato di file e file di perle fini mentre camminava di sotto la gonna si intravedevano due minuscole scarpine sormontate da due nappe rosa color di rosa e di perla era il suo grande ventaglio di velo e nei capelli che le incorniciavano il piccolo viso pallido come un aurera d'oro sbiadito aveva puntata una meravigliosa rosa bianca da una finestra del palazzo del re triste e malinconico osservava i bambini alle sue spalle in piedi stava suo fratello don pedro di argona che il re odiava mentre al suo fianco sedeva il suo confessore il grande inquisitore di granada il re era ancora più triste di sempre poiché nel guardare l'infanta che si inchinava con gravità infantile al seguito dei cortigiani riuniti o che rideva nascondendosi dietro il ventaglio dell'arcigna duchessa di albunkerche che l'accompagnava ovunque egli più che mai pensava alla giovane regina sua madre che così breve tempo prima così sembrava re era venuta dal gaio paese di francia ed aveva languito intristendo a poco a poco nel tetro splendore della corte spagnola morendo infine a soli sei mesi dalla nascita della sua creatura prima ancora di aver veduto i mandorli in fiori per la seconda volta nel suo giardino prima ancora di aver colto per la seconda volta i frutti del vecchio fico nodoso prima ancora di aver colto per la seconda volta i frutti del vecchio fico nodoso che sorgeva nel mezzo del cortile ormai ricoperto d'erba così grande era stato il suo amore per lei che il re non aveva permesso che neppure la tomba la celasse ai suoi occhi ne aveva fatto imbalsamare la salma da un medico moresco il quale in cambio di codesto servigio aveva avuta salva la vita la quale così si sussurrava già era stata ceduta al santo uffizio per sospetto di eresia e di esercizio di pratiche magiche perciò il corpo della regina era tuttora adagiato entro la bara imbottita di stoffe preziose nella cappella di marmo nero del palazzo così come i monaci ve l'avevano trasportata in una giornata ventosa di marzo quasi dodici anni innanzi un giorno di ciascun mese il re avvolto in un mantello nero e facendosi lume con una lanterna cieca scendeva nella cripta e le si inginocchiava accanto chiamando la gran voce mireina mireina talvolta rompeva l'etichetta formale che in spagna governa ogni azione ogni gesto e pone dei limiti persino al dolore di un re e le stringeva le mani inanellate in un impeto selvaggio di dolore tentando di risvegliare con i suoi dolci baci disperati l'esanime volto dipinto in quel giorno gli pareva di rivederla così come l'aveva veduta per la prima volta nel castello di fonteneblò quando lui non aveva che quindici anni e lei era ancora più giovane in quell'occasione erano stati formalmente fidanzati dal nunzio papale alla presenza del re di francia e di tutta la corte poi era ritornato all'escuriale recando con sé un minuscolo ricciolo di capelli color miele e il ricordo di due labbra infantili che gli sfioravano la mano in sommesso atto di omaggio mentre gli risaliva in carrozza più tardi era seguito il matrimonio celebrato frettolosamente a Burgos una cittadina di frontiera a cavallo tra i due paesi e il grandioso ingresso ufficiale a Madrid con la consueta celebrazione della messa solenne nella cattedrale di Laacatoa ed un'ancor più solenne del consueto auto da fe in cui erano stati consegnati al braccio secolare perché fossero arsi vivi più di 300 eretici tra i quali erano molti inglesi certo egli l'aveva amata pazzamente senza preoccuparsi della rovina del paese molti pensavano che allora la Spagna era in guerra con l'Inghilterra per il possesso dell'impero del nuovo mondo l'astento le aveva permesso di allontanarsi sia pure di pochi minuti dalla sua vista per lei aveva dimenticato o aveva dato agli altri l'impressione che avesse dimenticato le gravi cure dello Stato e per quel terribile accecamento con cui la passione vela lo sguardo dei suoi fanatici non si era accorto che le complicate cerimonie con le quali egli cercava di rallegrarla non avevano fatto che aggravare la strana malattia di cui la giovane regina soffriva quando morì egli rimase per un certo tempo come privato del senno è certo non vi è dubbio che avrebbe solennemente abdicato e si sarebbe ritirato a vivere nel grande monastero trappista di Granada di cui era già priore in titolo se non avesse temuto di lasciare la piccola infanta alla mercè del fratello la cui crudeltà era notoria persino in Spagna e che molti sospettavano di aver provocato la morte della regina a mezzo di un paio di guanti avvelenati di cui egli le aveva fatto dono in occasione di una sua visita al proprio castello di Aragona nemmeno all'ospirare dei tre anni di lutto pubblico ordinato dal re con editto regio in tutti i domini aveva permesso che i suoi ministri si parlassero di una nuova unione e allorché l'imperatore in persona gli aveva spedita un'ambasceria offrendogli la mano della sua bellissima nipote l'arciduchessa di Bohemia pregò gli ambasciatori di riferire al loro signore che il re di Spagna era già sposato all'afflizione il che sebbene questa fosse una sterile sposa egli la preferiva alla bellezza risposta che costò alla sua corona le ricche province dei Paesi Bassi le quali poco tempo dopo su istigazione dell'imperatore si ribellarono contro di lui sotto la guida dei fanatici seguaci della chiesa riformata tutta la sua vita di sposo con le sue gioie impetuose divampanti e la spaventosa agonia della fine improvvisa parve riaccendersi nella sua memoria in quel giorno mentre osservava l'infanta che giocava sulla terrazza ella aveva della regina la stessa adorabile birichineria lo stesso modo capriccioso di scuotere il capo la stessa bocca orgogliosa squisitamente cesellata vero sorriso di Franza mentre alzava di quando in quando gli occhi alla finestra o tendeva ai solenni genti uomini spagnoli la piccola mano da baciare ma le risa acute dei bambini laceravano le sue orecchie e il sole fulgido spietato irrideva il suo dolore e un odore sordo di strane spezie quali usano gli imbalsamatori sembrava offuscare la chiara aria del mattino o era forse soltanto la sua immaginazione si nascose il viso tra le mani e quando l'infanta tornò ad alzare gli occhi verso la finestra i cortinaggi erano stati abbassati e il re si era ritirato la principessina fece una piccola smorfia di disappunto e alzò le spalle avrebbe ben potuto rimanere con lei nel giorno del suo compleanno che importanza avevano quegli stupidi affari di stato o forse se ne era andato in quella tetra cappella dove i ceri ardevano perpetuamente e dove non le avevano mai dato il permesso di entrare che sciocchezza quando invece il sole splendeva tanto luminosamente e tutti erano così felici inoltre avrebbe mancata la corrida finta dallo squillo delle trombe ne annunciavano l'inizio imminente per tacere dello spettacolo di bulattini e degli altri magnifici divertimenti suo zio e il grande inquisitore avevano molto più buon senso erano scesi sulla terrazza e le avevano rivolti complimenti agghindati così la piccola infanta scrollò il capino grazioso prese Don Pedro per mano e si avvicinò lentamente giù per la scalinata verso un ampio padiglione di seta violetta che era stato eretto all'estremità del giardino mentre i piccoli invitati la seguivano in uno stretto ordine di precedenza quelli con i nomi più lunghi in attesa degli altri uno stuolo di giovani nobili sfarzosamente vestiti da Toreador uscirono fuori a incontrarla e il giovane conte di Tierra Nueva un ragazzo meravigliosamente bello di 14 anni si scoprì il capo con tutta la grazia e la dignità di un hidalgo nato e di un grande di Spagna e la condusse solennemente a una piccola seggiola d'oro ed avorio posta su un tronetto innalzato sopra l'arena le bambine si raggrupparono tutt'attorno a lei agitando i loro grandi ventagli e bisbigliando tra loro e Don Pedro e il grande inquisitore si fermarono ridendo sulla soglia persino la duchessa la camarera Mahor come la chiamavano una donna magra dei tratti duri con una gorzoretta gialla aveva l'aria meno di cattivo umore del solito e una specie di sorriso freddo stentato le errava sul viso grinzuto e le storgeva le labbra strette ed esangui fu certamente una corrida stupenda molto più bella parve all'infanta della corrida vera cui l'avevano fatta assistere a Siviglia in occasione della visita del duca di Parma a suo padre alcuni ragazzi caracollavano su cavallucci di legno splendidamente ingualdrappati brandendo lunghi giavellotti da cui pendevano strisce di gai nastri colorati altri appiedati agitavano dinnanzi al toro le loro cappe scarlatte e balzavano agili oltre il recinto quando il toro si precipitava loro addosso in quanto al toro poi era proprio come un toro vero sebbene fosse fatto di vimini e di pelle di vacca conciata e tirata e a volte insistesse a correre per l'arena solo sulle zampe posteriori cosa che un toro vero non si sogna mai di fare combatte benissimo però e i bambini si entusiasmarono talmente che salirono in piedi sui banchi e sventolarono i loro fazzoletti e gridarono forte bravo toro bravo toro proprio con la stessa serietà e buonsenso che se fossero stati grandi alla fine però dopo un combattimento prolungato durante il quale parecchi cavalli ad ondolo furono trapassati da parte a parte dei loro cavalieri disarcionati il giovane conte di tierra nueva riuscì a mettere il toro in ginocchio e dopo aver ottenuto dall'infanzia il permesso di vibrargli il colpo di grazia affondò con tanto impeto la sua spada di legno nel collo dell'animale che la testa rotolò via netta mettendo a nudo il volto ridente del piccolo messier de Lorraine figlio dell'ambasciatore di Francia a Madrid la rena venne poi spazzata tra grandi applausi i cavallucci morti furono tracinati fuori solennemente da due paggi moleschi in livrea giallo nera e dopo un breve interludio durante il quale un acrobata francese eseguì degli esercizi difficili su una corda tesa comparvero sul palcoscenico di un teatrino che era stato costruito appositamente alcune marionette italiane nella tragedia semiclassica di Sofonisba recitarono così bene e i loro gesti erano talmente naturali che alla fine dello spettacolo gli occhi dell'infanta erano tutti umidi di lacrime alcuni bambini poi piansero addirittura e si dovete consolarli con dolciumi e persino il grande inquisitore ne rimase talmente impressionato che non poté trattenersi dal dire a Don Pedro che gli sembrava intollerabile che degli oggetti fatti semplicemente di legno e di cera colorata e azionati meccanicamente da fili dovessero essere tanto infelici e sopportare tante disavventure seguì poi un prestigiosore africano che aveva con sé un grande cesto piatto ricoperto di un panno rosso dopo aver posato il suo cesto nel centro dell'arena si tolse dal turbante uno strano zuffolo di canna e incominciò a soffiarvi dentro pochi istanti dopo il panno prese a muoversi e mentre le note dello zuffolo si facevano sempre più acute due serpenti verdi e oro misero fuori le loro curiose teste a forma di cuneo e si ersero piano piano ondeggiando innanzi e indietro al ritmo della musica simili a due piante acquatiche quando il vento le fa ondeggiare i bambini però provarono una certa paura alla vista di quei cappucci maculati di quelle lingue dardeggianti in movimenti rapidissimi e si divertirono molto di più quando il prestigiatore fece uscire fuor dalla sabbia un minuscolo albero di aranze che portava graziosissimi boccioli bianchi e grappoli di frutti veri e quando prese il ventaglio della piccola figlia della marchesa di lastorres e lo tramutò in un uccellino azzurro che si mise a volare tutto intorno al padiglione cinguettando e cantando allora la felicità e lo stupore dei bimbi non conobbe più limiti anche il solenne minuetto eseguito dai giovani danzatori della chiesa di muestra signora del pilar fu delizioso l'infanta assisteva per la prima volta a questa cerimonia stupenda che ha luogo ogni anno a Calendimaggio di fronte all'altare monumentale della Vergine e in suo onore infatti nessun membro della reale famiglia di Spagna era più entrato nella grandiosa cattedrale di Saragozza da quando un prete impazzito che si ritenne da molti essere stato al soldo di Elisabetta d'Inghilterra aveva tentato di somministrare al principe delle Asturie un'ostia avvelenata perciò perciò e la conosceva solo di fama la danza di nostra signora come la chiamavano e certo era uno spettacolo bellissimo i giovani indossavano abiti di corte di antica foggia in velluto bianco e i loro curiosi cappelli a tre punta erano orlati d'argento e sormontati da immense piume di struzzo e l'abbagliante biancore dei loro costumi mentre si muovevano in atteggiamenti pieni di grazia sotto la luce solare era ancora maggiormente accentuato dal contrasto dei loro lunghi capelli neri e dei loro volti bruni tutti rimasero affascinati dalla grave dignità con cui i loro corpi si snodavano nelle complicate figure della danza e dalla grazia elaborata dei loro gesti lenti dei loro inchini solenni e allorché ebbero terminata la rappresentazione e si furono tolti dinnanzi all'infanta i grandi cappelli piumati e la rispose alle loro riverenze con molta cortesia e fece il voto che avrebbe mandato al santuario di nostra signora del pilar una grande candela di cera in cambio del piacere che ella le aveva dato avanzò poi nell'arena una compagnia di egiziani bellissimi così erano chiamati gli zingari in quei giorni che sedettero a gambe incrociate in cerchio e presero a suonare mollemente sulle loro cetre muovendo il corpo in cadenza e canticchiando quasi a bocca chiusa un motivo sommesso sognante quando scorsero Don Pedro lo fissarono torvi e alcuni tra loro si impaurirono da averne il fiato mozzo poiché solo poche settimane innanzi egli aveva fatto impiccare due della loro gente sulla piazza del mercato di Siviglia sotto l'imputazione di stregoneria ma la grazzosa infanta li incantò mentre appoggiata all'indietro del suo tronetto riso guardava da dietro il ventaglio con i suoi grandi occhi celesti poiché erano certi che una creatura così bella non avrebbe mai potuto mostrarsi crudele verso nessuno perciò si guitarono a suonare con estrema dolcezza toccando appena le corde dei loro strumenti con le lunghe dita appuntite e le loro teste cominciarono a ciondolare come se stessero per addormentarsi ma ad un tratto con un grido così lacerante che i bambini trassalirono e Don Pedro portò istintivamente la mano all'impugnatura d'agata della sua spada i zingari balzarono in piedi e presero a volteggiare furiosamente entro il recinto percuotendo i loro tamburelli e cantando selvagge canzoni d'amore nella loro strana lingua gutturale poi a un nuovo segnale si buttarono tutti un'altra volta a terra e giacquero in immobilità assoluta mentre il silenzio era rotto soltanto dal gemito sommesso delle cetre dopo aver ripetuto più volte questo spettacolo scomparvero per un attimo e subito ritornarono tracinando alla catena un orso villoso reggendo sulle spalle alcune scimmie di barberia l'orso si mise sulla testa senza perdere nulla della sua solenne dignità e le scimmie dal musetto tutto raggrinzito a furia di smorfie eseguirono ogni sorta di trucchi divertenti insieme ai due giovani zingari che dovevano essere i loro padroni lottarono con spade minuscole spararono cannoncini sfilarono in una vera parata militare proprio come le guardie del corpo del re insomma i zingari ebbero un successo enorme ma la parte più buffa del trattenimento di quella mattinata fu senza dubbio la danza del piccolo nano quando entrò inciampando nell'arena trapperellando sulle gambe contorte facendo dondolare a destra e a sinistra l'enorme testa difforme i bambini scoppiarono in un urlo di gioia e l'infanta poi rise così forte che la camerara dovette rammentarle che per quanto ci fossero molti precedenti in Ispagna di una figlia di re che aveva pianto dinnanzi ai suoi uguali non se n'era fino ad allora registrato nessuno di una principessa di sangue reale che si fosse mai mostrata così allegra di fronte a degli inferiori per nascita il nano però era davvero irresistibile e un mostriciatolo talmente straordinario non era stato mai veduto nemmeno alla corte spagnola pur è famosissima per il suo raffinato culto dell'orrido era però anche la sua prima comparsa in pubblico perché era stato scoperto soltanto il giorno prima mentre correva libero per la foresta da due nobiluomini che si erano trovati per caso a cacciare in una parte remota del vasto sughereto che circondava la città e lo avevano portato con loro al palazzo per farne una sorpresa all'infanta e suo padre un povero torbieraio non era stato che troppo contento di disfarsi di un figliolo così brutto e inutile in verità il tratto più divertente in lui era forse appunto la sua assoluta inconsapevolezza del proprio aspetto grottesco anzi sembrava felicissimo e di temperamento gaio e ilare all'estremo quando i bambini ridevano rideva anche lui con loro liberamente gioiosamente e al termine di ogni danza li salutava con inchini ridicolissimi sorridendo e chiamandoli con cenni proprio come se fosse uno di loro non una povera piccola cosa malformata che la natura in uno dei suoi ghiribizi si era sbizzarrita a plasmare a quel modo perché gli altri ci si divertissero in quanto all'infanta il piccolo nano ne fu letteralmente affascinato non riusciva a toglierle gli occhi di dosso e pareva che danzasse per lei solamente e quando al termine dello spettacolo la principessina rammentandosi di aver vedute le grandi dame di corte gettare mazzi di fiori a Caffarelli il celebre castrato italiano che il papa aveva inviato appositamente a Madrid dalla propria cappella privata nel tentativo di curare la malinconia del re con la dolcezza della sua voce si tolse dai capelli la bellissima rosa bianca e un poco per scherzo un poco per stuzzicare la camarera gliela gettò nel mezzo dell'arena con il suo più grazioso sorriso il piccolo nano prese la cosa con la più grande serietà si premette il fiore alle ruvide labbra screpolate si posò una mano sul cuore e piegò un ginocchio in segno di riverenza con un riso che gli squartigia facciava la faccia da un orecchio all'altro mentre i suoi occhietti maliziosi luccicavano di compiacimento questo scompigliò talmente la dignità dell'infanta che la seguitò a ridere ancora per molto tempo dopo quando già il nano era ormai uscito dall'arena ed espressa allo zio il desiderio che la danza ricominciasse subito ma la camarera adducendo la scusa che il sole era ora divenuto troppo ardente decise che sua altezza doveva ritornare immediatamente a palazzo dove le era stato preparato un banchetto stupendo che comprendeva anche una vera torta di compleanno con le sue iniziali disegnate in zucchero filato e colorato e sulla cui cima sventolava una bellissima bandierina d'argento perciò l'infanta si levò in piedi con molta dignità e dopo aver dato ordine che il piccolo nano fosse pronto a danzare nuovamente per lei dopo l'ora della siesta e dopo aver espresso il proprio ringraziamento al giovane conti di Tierra Nueva per la magnifica riuscita dello spettacolo si ritirò nei suoi appartamenti seguita dai bambini nello stesso ordine in cui erano venuti quando il piccolo nano seppe che avrebbe dovuto danzare un'altra volta davanti all'infanta e per suo espresso comando ne fu talmente orgoglioso che corse in giardino baciando la rosa bianca in un'estasi di felicità ridicola testicolando dalla gioia con mosse goffe e sgraziate i fiori erano sdegnati che egli osasse invadere la loro bella casa e quando lo videro saltellare come un capretto a suoi giù per i viali agitando alte le brazza sul capo in movenze così grottesche non furono più a lungo in grado di reprimere i loro sentimenti è francamente troppo brutto perché gli si permetta di giocare dove ci siamo noi gridarono i tulipani dovrebbe bere succo di papavero e andarsene a dormire per mille anni dissero i grandi gigli rossi e dalla collera si infermigliarono ancora più è un vero orrore strillò il cactus perbacco è tutto storto e cintischiato come un vecchio ceppo e ha la testa completamente sproporzionata in rapporto alle gambe davvero che al solo vederlo mi sento pizzicare tutto e se osa venirmi vicino lo pungo con i miei aculei pensare che ha in mano proprio uno dei miei fiori esclamò il rosetto bianco ho dato io stesso quella rosa all'infanta come donno di compleanno e lui gliela rubata e si mise a gridare ladro 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 con quanto fiato aveva in gola persino i rossi gerani che di solito non si davano mai arie perché tutti sapevano che anche loro avevano un sacco di parenti poveri arretrarono disgustati non appena lo videro e quando le violette osservarono con voce blanda che era bruttissimo effettivamente ma che lui poverino non ci poteva nulla i gerani ribatterono stizziti ma con una certa ragione che quello appunto era il suo difetto principale e che non vi era alcuna giustificazione ad ammirare un individuo per il fatto appunto che era incurabile e in verità persino tra le violette venera qualcuna che trovava la bruttezza del piccolo nano così sfacciata e che comunque avrebbe dimostrato maggior gusto se si fosse fatto vedere triste o perlomeno pensoso anziché saltabeccare qua e là allegramente contorcendosi e dimenandosi a quel modo con quelle mosse sciocche e grottesche in quanto alla vecchia meridiana che era una personalità altamente autorevole poiché aveva dette le ore del giorno niente di meno che all'imperatore Carlo V rimase talmente sbalordita dell'aspetto del piccolo nano che per poco non si dimenticò di segnare due interi minuti con il suo lungo dito tenebroso e non poté trattenersi dal fare osservare al grande pavone biancolatteo che stava prendendo il sole sulla balaustrata che tutti sapevano che i figli del re erano re e i figli dei torbierai torbierai perciò era assurdo pretendere che potesse essere diversamente profonda osservazione che il pavone approvò in pieno anzi si mise a gridare certo con una voce così acuta e stridente che i pesciolini dorati i quali abitavano nella vasca della fresca fontana zampillante misero la testa a fior d'acqua e domandarono ai giganteschi tritoni di pietra che cosa mai fosse successo chissà come agli uccelli invece piacque spesso lo avevano veduto nella foresta danzare come un elfo inseguendo il turbinio delle foglie oppure accovacciato nel cavo di qualche vecchia quercia a dividere le proprie noci con gli scoiatoli non gli importava affatto a loro che fosse brutto ma come se persino l'usignolo che cantava la notte negli arancetti con tanta dolcezza che a volte persino la luna si chinava per meglio ascoltarlo non era poi granché a vedersi dopo tutto da rasto il piccolo nano era stato sempre gentile con loro e durante l'amarissimo inverno quando sugli alberi non c'erano bacche e il terreno era duro come il ferro e i rupi erano scesi sin quasi alle porte della città in cerca di cibo mai una volta egli li aveva dimenticati ma anzi sempre si era ricordato di dargli qualche briciola del suo misero tozzo di pane nero dividendo ogni volta con loro la sua povera colazione perciò gli volarono torno torno sfiorandogli appena appena le guance con le loro ali mentre passavano e cinguettarono tra di loro e il piccolo nano era così contento che non poté trattenersi dal mostrargli la bellissima rosa bianca e dal dir loro che era stata l'infanta in persona a regalargliela perché l'infanta lo amava gli uccellini non capivano una sola parola di quel che il piccolo nano diceva loro ma questo non aveva importanza perché piegavano la testa da un lato e assumevano un'aria di saggezza il che è lo stesso che capire una cosa ed è molto più facile anche le lucertole si presero di una straordinaria simpatia per lui e quando si stancò di correre e si buttò sull'erba per riposare si misero a giocare e a far di chiasso tutti intorno tentando di divertirlo come meglio potevano mica tutti possono essere belli come una lucertola gridarono questo sarebbe pretendere troppo e per quanto sia assurdo dirlo non è poi tanto brutto poiché naturalmente chiudiate gli occhi e non lo guardiate le lucertole erano di natura grandi filosofe e spesso se ne restavano sedute assieme per ore e ore quando non avevano altro da fare o quando pioveva troppo forte per uscire di casa i fiori però erano seccatissimi del loro comportamento e del comportamento degli uccelli dissero ciò dimostra semplicemente come involgarisce questo continuo correre e volare la gente beneducata sta sempre ferma allo stesso posto come noi nessuno ci ha mai veduti saltellare su e giù per i viali o galoppare come forse nati lungo l'erba in caccia di ribellule quando abbiamo bisogno di cambiare aria ma andiamo a chiamare il giardiniere e ci facciamo trasportare in un'altra aiola questo sì che è dignitoso è così che ci si dovrebbe comportare ma uccelli e lucertole non hanno il senso del riposo in quanto agli uccelli poi sono addirittura senza fissa dimora sono nomadi come gli zingari e bisognerebbe trattarli alla stessa stregua perciò arricciarono il naso e assunsero un'aria molto impettita e furono tutti soddisfatti quando dopo un po' di tempo il piccolo nano si tirò su dall'erba e si diresse lungo la terrazza verso il palazzo bisognerebbe che lo tenessero dentro casa per tutto il resto della sua vita dissero guardate che schiena gobba e che gambe storte e presero ridacchiare tra loro ma il piccolo nano non sapeva nulla di tutti questi commenti sulla sua persona gli uccelli e le lucertole gli piacevano immensamente e pensava che i fiori fossero la cosa più meravigliosa dell'universo a decisione naturalmente dell'infanta ma dopo tutto lei gli aveva dato la bellissima rosa bianca e lo amava e questo cambiava tutto come gli sarebbe piaciuto essere tornato indietro con lei ella lo avrebbe messo alla sua destra e gli avrebbe sorriso e lui non si sarebbe mai mosso dal suo fianco ma avrebbe fatto di lei la sua compagna di giochi e le avrebbe insegnato tante piccole astuzie divertenti e ingegnose poiché anche se non era mai stato a palazzo conosceva molte bellissime cose sapeva fabbricare i gabbioline di giunchi per mettervi a cantare i grilli e foggiare il bambù dalle lunghe giunture della zampogna che Pan amava conosceva il verso di ciascun uccello e sapeva distinguere gli storni dai picchi e l'airone dal tarabuso conosceva l'usta di ogni animale e sapeva rintracciare la lepre alle impronte leggere e l'orso alle foglie calpestate conosceva tutte le danze buschive la danza folla in veste rossa ad autunno la danza lieve in sandali azzurri sopra il grano la danza incoronata di ghirlande di neve l'inverno e la danza dei boccioli attraverso i giardini di primavera sapeva dove il piccione selvatico costruiva il suo nido e una volta che un uccellatore con le sue reti aveva catturato i genitori aveva lui stesso allevato la nidiata dei piccoli e gli aveva costruito una colombaia nella fenditura di un olmo svettato erano completamente addomesticati e solevano venire ogni mattina a prendere il cibo dalle sue mani all'infanta sarebbero piaciuti come le sarebbero piaciuti i conigli selvatici che scrutrettolavano frusciando nelle alte feci e le ghiandaie dalle piume d'acciaio e dal becco nero e i porcospini che sapevano arricciolarsi in pallotto le puntute e le grosse sagge tartarughe che camminavano strisciando piano piano scuotendo la testa e mordicchiando le foglioline nere certo doveva assolutamente venire nella foresta a giocare con lui egli le avrebbe ceduto il suo lettuccio e avrebbe vegliato fino all'alba fuor della finestra per essere certo che il grosso bestiame cornuto della foresta non la spaventasse o che le volpi fameli che non si avvicinassero troppo alla capanna poi all'alba avrebbe battuto alle sue imposte e l'avrebbe svegliata e sarebbero usciti insieme e insieme avrebbero danzato tutto il giorno in fondo nel bosco non ci si sentiva affatto soli di quando in quando un vescovo vi passava di quando in quando un vescovo vi passava sul dorso della sua mura bianca leggendo in un libro bignato talvolta passavano i falconieri nei loro verdi berretti di velluto nei loro giustacuori di pelle di daino conciata reggendo ai polsi falconi incappucciati al tempo della vendemmia venivano i pigiatori dalle mani dai piedi color di viola inghirlandati di lucida edera trascinando otri gocciolanti di vino e i torbierai sedevano di notte davanti ai loro grandi bracieri a curare i ceppi inariditi che si abbrucciacchiavano lentamente nel fuoco e ad arrostire castagne tra le ceneri e i malfattori uscivano dai loro antri e si univano a loro in allegra baldoria una volta aveva persino veduta una splendida processione snodarsi su per la lunga polverosa strada di Toledo i monaci avanzavano in testa salmodeando sommessamente e portando gonfaloni garrenti e croci d'oro poi in armatura argentea con mazze e picche venivano i soldati e in mezzo a loro camminavano tre uomini scalzi in strani abiti gialli tutti dipinti di figure meravigliose che reggevano nelle mani cieli accesi certo vi erano molte moltissime cose da vedere nella foresta e quando fosse stata stanca egli avrebbe trovato un sedile di muschio soffice oppure l'avrebbe portata tra le sue braccia perché era molto forte benché sapesse di non essere molto alto gli avrebbe fatto una collana di bacche rosse di brionia che sarebbero state altrettanto belle quanto le bacche bianche che ora portava sul vestito e quando non le fosse più piaciuta l'avrebbe gettata via e lui le avrebbe fabbricato un altro vezzo l'avrebbe recato gusci di ghirlande e anemoni orroridi di rugiada e minuscole lucciole che sarebbero rifulse come stelle nel pallidoro dei suoi capelli ma dov'era lei lo domandò alla rosa bianca ma questa non diede risposta tutto il palazzo sembrava addormentato e anche là dove le imposte non erano state chiuse pesanti cortinaggi erano stati calati sulle finestre onde tener lontano il riverbero solare andò girando intorno in cerca di un punto dove entrare e infine scorse un piccolo uscio segreto che era rimasto aperto e si infilò attraverso e si trovò in una sala splendida molto più bella della foresta riflette con timore il piccolo nano c'erano tante più dorature dappertutto e persino il pavimento era fatto di grandi pietre colorate riunite insieme in una specie di disegno geometrico ma la piccola infanta non era lì c'erano solo delle meravigliose statue bianche che lo guardarono dai loro piedistalli di diaspro con tristi occhi vacui e strane labbra sorridenti all'estremità della sala pendeva una tenda di velluto nero riccamente trapunta cosparsa di soli e di stelle i due emblemi favoriti del re e ricamate dei colori che egli più amava forse ella si nascondeva là dietro bisognava tentare comunque perciò si avvicinò piano piano e rascostò no c'era soltanto un'altra sala sebbene più bella forse della prima le pareti erano ricoperte di arazzi lavorati ad ago e pieni di figure rappresentanti una caccia era l'opera di artisti fiamminghi che in quella composizione avevano speso più di sette anni un tempo era stata la camera di Jean Lefou Giovanni il pazzo come lo avevano soprannominato il re folle talmente innamorato della caccia che spesso nei suoi deliri aveva cercato di salire in croppa gli immensi cavalli scalpitanti e di abbattere il cervo su cui inferocivano i cani suonando il suo corno da caccia e infilzando con la sua spada i palli di daini fuggenti ora era usata quale sala di consiglio e sul tavolo centrale erano disposti i portafogli rossi dei ministri su cui erano impressi i tulibani d'oro di Spagna e gli stemmi e le insegne della casa d'Asburgo il piccolo nano guardò stupito intorno a sé e per un attimo esitò a proseguire gli strani cavalieri silenziosi che galloppavano con tanta velocità ma senza far rumore alcuno nelle ampie radure gli parevano simili a quei terribili fantasmi di cui aveva inteso favoleggiare dai torbierai e con pracios che vanno a caccia soltanto di notte e se si imbattono in un uomo lo tramutano in cerva e lo uccidono ma ripensò alla bella infanta e si fece coraggio voleva trovarla sola e dirle che anche lui l'amava forse era in un'altra sala al di là di quella corse frettoloso sui soffici tappeti moreschi e aprì l'uscio no non era neppur lì anche quella sala era vuota era la sala del trono che serviva a ricevere gli ambasciatori esteri quando il re acconsentiva a dar loro udienza particolare e che ormai accadeva di rado era la stessa sala del trono in cui molti anni innanzi erano giunti messi dall'Inghilterra a negoziare il matrimonio della loro regina a quel tempo una delle sovrane cattoliche d'Europa con il primo genito dell'imperatore i panneggi erano di cuoio di cordova dorato e un massiccio lampadario d'oro a 300 bracci vendeva dal soffitto bianco e nero sotto un grande baldacchino di tessuto aureo su cui erano ricamati a perline i leoni e le torri di Castiglia sorgeva il trono vero e proprio ricoperto di un ricco drappo di velluto nero tempestato di tulipani d'argento e orlato di una complicata frangia d'argento e perle sul secondo gradino del trono era posato l'inginocchiatoio dell'infanta attorno di un cuscino in tessuto d'argento e sotto di esso ancora e oltre il limite del baldacchino stava il seggio del nunzio papale che solo aveva il diritto di sedere in presenza del re durante le cerimonie pubbliche e il cui cappello cardinalizio a nappe scarlate e intrecciate era adagiato su un purpurio taburè sgabello di fronte sulla parete di rimpetto al trono era appeso un ritratto di carlo quinto a grandezza naturale in costume da caccia con un grosso mastino a fianco e un ritratto di filippo secondo in atto di ricevere l'omaggio della delegazione dei paesi bassi occupava il centro della parete tra i due finestroni era posto uno stipo d'ebano nero interseato di piastre d'avorio su cui erano incise le figurazioni della danza della morte di Holbein dalla stessa mano del maestro si diceva ma al piccolo nano nulla importava di tutto questo splendore non avrebbe ceduto la sua rosa per tutte le perle del baldacchino non un solo petano per il trono stesso ciò che gli voleva era semplicemente vedere l'infanta prima che scendesse al padiglione e chiederle di venire via con lui non appena egli avesse terminata la sua danza lì nel mezzo l'atmosfera era chiusa e greve ma nella foresta invece il vento soffiava libero e la luce del sole con mobili aure e mani scostava le tremule foglie c'erano fiori pura nella foresta non così belli forse come i fiori del giardino ma in compenso più dolcemente profumati giacinti al principio di primavera che sommergevano le fresche valli e i monticelli erbosi primule gialle che si annidavano a piccoli ciuffi intorno alle radici nocchiute delle querce la lucida ceridonia e l'azzurra veronica e i giaggioli color d'oro e gridellino sui noccioli crescevano infiorescenze lanuginose e le fucse si piegavano sotto il peso delle loro corolle screziate dimora delle api il castagno aveva le sue volute di candide stelle e il biancospino le sue pallide irreali lune sì certo sarebbe venuta se soltanto fosse riuscito a trovarla sarebbe venuta con lui nella dolce foresta e tutto il giorno gli avrebbe danzato per la sua gioia a quel pensiero un sorriso gli illuminò lo sguardo e il piccolo nano passò nella stanza attigua di tutte le stanze quella era la più chiara e la più bella le pareti erano tappezzate di fiorito damasco rosa di lucca adorno di uccelletti e punteggiato di delicati boccioli d'argento il mobilio era d'argento massiccio festonato di ghirlande floreali e di cupidi librati a mezz'aria di fronte ai due grandi camini erano appoggiati paraventi enormi ricamati a pappagalli e pavoni e il pavimento di onici color verde mare sembrava stendersi all'infinito ed egli non era solo in piedi sotto l'ombra dello stipite all'altra estremità della stanza una piccola figura lo stava osservando il suo cuore tremò e un grido di felicità gli sfuggì dalle labbra ed egli mosse innanzi nella luce solare e mentre faceva questo anche la figura si mosse ed egli la vide distintamente l'infanta era un mostro il mostro più grottesco che gli avesse mai veduto non già formato come tutti gli altri esseri umani ma gobbo contraffatto nelle membra con un'enorme testa ciondoloni e una selva di capelli neri il piccolo nano aggrottò la fronte e il mostro fece altrettanto rise e quello rise con lui e si tenne le mani sui fianchi imitando in tutto e per tutto le sue mosse e gli fece un inchino per Beffa e quello gli ricambiò l'inchino gli si avvicinò e il mostro gli venne incontro copiando ogni suo gesto fermandosi quando lui si fermava il piccolo nano si mise a gridare forte divertito e corse in avanti e tese la mano e la mano del mostro toccò la sua ed era fredda come il gelo allora si spaventò agitò la mano di traverso e subito con rapidità fulminea la mano del mostro accompagnò la sua mossa cercò di premergli addosso ma qualcosa di liscio e di duro glielo impedì la faccia del mostro era ora vicinissima alla sua e sembrava dominata dal terrore si scostò i capelli dagli occhi l'apparizione lo imitò lo colpì e l'apparizione gli restitui colpo per colpo allora prese a sbeffeggiarlo e il mostro gli rispose con smorfi e ributtanti si ritrasse e anche quello arretrò che cos'era dunque riflette per un attimo e si guardò attorno scultando il resto della stanza com'era strano ogni oggetto sembrava avere il suo doppio in quell'invisibile muro d'acqua chiara sì ogni dipinto vi era ripetuto ogni divano il fauno addormentato nell'alcova presso la soglia aveva il suo gemello che sonnecchiava di contro e la venere d'argento alta nel sole tendeva le braccia a un'altra venere bella quanto lei forse era ecco e gliel'aveva invocata una volta giù nella valle ed ella gli aveva risposto parola per parola forse sapeva irridere l'occhio così come irrideva la voce sapeva forse creare un mondo d'imitazione intuttosibile al mondo reale forse che le ombre delle cose avevano colore e vita e movimento era possibile che si mosse e togliendosi dal petto la bellissima rosa bianca si girò di scatto e la baciò anche il mostro aveva una rosa identica alla sua petalo per petalo uguale la baciava con gli stessi baci e la premeva contro il suo cuore con gesti disgustosi allora la verità balenò dentro di lui ed egli lanciò un grido forsennato di disperazione e si abbatté singhiozzante al suolo dunque era lui il difforme e gibboso lui l'essere schifoso e glottesco a guardarsi era lui il mostro ed ecco perché i bambini nel vederlo avevano riso e la piccola principessa che gli credeva innamorata di lui anche lei non aveva fatto che schernire la sua bruttezza e divertirsi delle sue membra contorte perché non lo avevano lasciato nella foresta dove non vi erano specchi che potessero rivelargli il suo aspetto ripugnante perché suo padre non lo aveva ucciso anziché venderlo a sua vergogna calde lacrime gli regarono le guance ed egli strappò in mille pezzi la rosa bianca il mostro acquattato fece lo stesso e sparse per l'aria i petali leggeri si arrotolò per terra e quando lo guardò vide che lo fissava con un viso contratto dal dolore allora si allontanò Carponi per non vederlo e si coprì gli occhi con le mani strisciò verso l'ombra come una bestia ferita e viciacque gemendo ma in quel momento appunto entrò l'infanta seguita dai suoi compagni attraverso il balcone spalancato e quando videro il brutto piccolo nano steso per terra che con le dita artigliate graffiava il pavimento in un modo straordinariamente fantastico ed esagerato si sbellicarono addirittura dalle risate felici e ci si misero tutti attorno e lo ammirarono la sua danza è stata molto divertente disse l'infanta ma la sua mimica lo è ancora di più francamente è bravo quanto i burattini per quanto si capisce sia molto meno naturale di quelli e agitò il suo grande ventaglio e applaudì ma il piccolo nano non una sola volta alzò il capo e i suoi singhiozzi diventarono sempre più deboli finché a un tratto emise come uno strano gemito e si premette il fianco quindi ricadde giù di nuovo e non si mosse più sei stato bravissimo disse l'infanta dopo una pausa ma adesso voglio che tu danzi per me sì gridarono tutti i bambini in coro devi alzarti e ballare perché sei più bravo delle scimmie di barberia e molto più buffo anche ma il piccolo nano non diede risposta allora l'infanta pestò i piedi e chiamò forte il suo zio che stava passeggiando sulla terrazza col ciambellano ed era occupato a leggere dei dispacci di fresco arrivati dal Messico dove il santo ufficio era stato istituito da poco il mio piccolo nano buffo ha il broncio gridò bisogna svegliarlo e dirgli che danzi per me i due gentiluomini si scambiarono un sorriso ed entrarono e don pedro si chinò e col suo guanto ricamato schiaffeggiò sulla guancia il piccolo nano devi ballare disse mostriciatolo su balla l'infanta di spagna e di tutte le indie vuole essere divertita ma il piccolo nano non si mosse bisognerà mandare a chiamare il fustigatore di corte disse don pedro con aria seccata e ritornò sulla terrazza ma il ciambellano si fece grave in viso e si inginocchiò accanto al piccolo nano e gli posò una mano sul cuore e pochi istanti dopo crollò le spalle e si alzò e dopo essersi inchinato profondamente dinnanzi all'infanta le disse mi bella principessa il vostro buffone nerottolo non danzerà mai più è un peccato poiché è tanto brutto che forse sarebbe riuscito a far sorridere il re e perché non danzerà più domandò l'infanta ridendo perché il suo cuore si è spezzato rispose il ciambellano allora l'infanta si oscurò in volto e le sue delicate labbra simili a petali di rosa si incresparono in una graziosa smorfia di disprezzo in avvenire fate in modo che quelli che vengono a giocare con me non abbiano cuore esclamò e corse fuori nel giardino grazie a tutti